L'anno chiamata la fabbrica del carnevale sarà un nuovo spazio in cui laboratori, bar, ristoranti, ostelli ma anche aree espositive ed interattive e tanto altro diventeranno un unicum dedicato alle identità culturali più importanti e distintive della città ovvero il carnevale con le sue maestranze e la sua creatività ma anche il jazz al quale la città dedica da anni un evento ad ospitarla sarà il complesso Sant'Arcangelo in corso Matteotti 66 fra gli edifici pubblici più grandi ed imponenti del centro storico cittadino fanese fra le aree previste anche quella in cui la robotica, la meccanica d'avanguardia saranno protagoniste capaci di coinvolgere atenei universitari, professionisti del settore ma anche gli stessi maestri carristi che potranno finalmente avere a loro disposizione innovazioni tecnologiche ed anche un centro dove creare e sperimentare sarà dunque un luogo in grado di creare anche occupazione e nuove professionalità a garantirlo è il suggestivo progetto ideato da Italo Rota interpellato dall'assessorato alla cultura e al turismo per dare una veste nuova e unica al Sant'Arcangelo il maestro dell'architettura e del design è autore fra l'altro del Museo del Novecento di Milano ma anche della promenade del Foro Italico di Palermo, dell'illuminazione di Notre Dame e del Lungosenna Parigi le sue idee per il riuso del Sant'Arcangelo saranno presentate alla cittadinanza in un incontro pubblico in programma sabato 5 marzo alle 17 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna i cittadini sono invitati a partecipare in maniera attiva grande occasione per Fano, un edificio in parte abbandonato, in parte funziona molto bene però il Sant'Arcangelo per la sua posizione così centrale nella città, vicino alla Mediateca vicino a altri musei della città potrebbe essere un altro tassello di quel racconto che noi vogliamo che i turisti e i cittadini apprezzino sempre di più una struttura che sarà aperta al pubblico sempre, non deve essere un museo di conservazione ma un museo della creatività, unire insieme quindi il grande pretesto del Carnevale per fare un laboratorio di creatività che sappia intercettare i giovani, i cittadini in un laboratorio costante, unitamente a questo la musica e questo ci apparenta con la città di Pesaro che delega a Palazzo Ricci l'headquarter della città della musica di Pesaro perché qui troverà sede anche la casa del jazz questa tradizione che poi ha radici fondate nella musica arabita anche un jazz tutto nostro, uno strano può stare bene in un contenitore che appunto si arricchirà di idee ulteriori nell'appuntamento di sabato 5 con la cittadinanza alla Sala Verdi il costo complessivo del progetto è di circa 3 milioni di euro attraverso l'investimento territoriale integrato che Fano ha attuato assieme al comune di Pesaro la città sarà in grado di recepire i finanziamenti previsti dal bando regionale a valere sui fondi strutturali che scadrà il 31 marzo 2,4 milioni di euro sono quelli previsti dal bando e 480 mila invece dal cofinanziamento del comune di Fano un anno fa eravamo proprio in questi ambienti per capire cosa poterci realizzare soprattutto trasferirci e portarci la sede dell'ente e proprio dietro quest'idea invece guarda un po' che nascerà la fabbrica del carnevale sarà un qualcosa in più, un laboratorio di creatività un filo conduttore tra musica, disegno e innovazione un vero museo, museo non con la polvere come sottolinea il nostro vice sindaco ma sarà veramente un luogo aperto 12 mesi all'anno per i cittadini ma non solo, per tutti coloro che amano il carnevale sotto ogni aspetto avere la casa del jazz per noi rappresenta un punto d'arrivo è un punto di forza che dà ancora più vigore a quelli che sono tutti i nostri progetti dal Festival al Jazz in Provincia al Jazz Club sarà collegata con la Casa del Jazz di Roma che è una prestigiosa istituzione voluta da Walter Vettroni e sarà collegata anche con alcune realtà europee simili in questa casa abbiamo intenzione di porre l'attenzione sulla ricerca sulla documentazione, sulla sperimentazione coinvolgere i giovani nell'attività musicale fare workshop durante il Festival che vale tutte quelle attività creative che sono tipiche del jazz sarà un bel percorso e per noi rappresenta sicuramente l'approdo di 25 anni di attività